Da alcuni giorni la sezione AIA di Agrigento dispone di 28 nuovi arbitri di calcio. Si tratta di giovani abitanti in diversi comuni della provincia agrigentina, da Canicattia, Castrofilippo, da Sciacca, Cammarata. I giovani, dopo aver superato gli esami, sono in attesa di intraprendere la carriera di arbitri della FIGC. La prova sostenuta dai giovani è una delle iniziative portate avanti con successo dalla sezione AIA di Agrigento guidata da Gero Drago, il quale ha in mente un programma ambizioso, come egli stesso sottolinea. Da circa due mesi, da quando sono stato eletto presidente, ho cercato di alzare il livello diciamo di didattico, tecnico e non solo, anche umano, degli ospiti della sezione, appunto per far crescere quello che è il gruppo degli arbitri agrigentini. L'obiettivo è in questi anni appunto di alzare il livello arbitrale e anche umano dei miei associati. L'obiettivo della sezione AIA di Agrigento vuole e deve essere non solo finalizzata alla formazione arbitrale, ma anche e soprattutto a quella culturale e umana di tutti quelli che si vogliono avvicinare al nostro mondo. Noi siamo un'associazione che conta più di 150 associati arbitri, abbiamo un osservatore in serie A, un arbitro che ci rappresenta a livello di Cambro, che è Fabio Pasciuta, due arbitri alla Candì e un assistente alla Candì, poi diversi arbitri a livello di CAI e siamo tra i più rappresentati a livello di arbitri di eccellenza e promozione. Quindi una sezione giovane che vuole puntare nei prossimi anni, mi auguro anche sotto la mia presidenza, ad avere finalmente un arbitro in serie A. I prossimi appuntamenti c'è nell'immediato? Sì, noi ormai arriviamo a fine stagione, siamo proprio nelle fasi conclusive, negli ultimi due mesi abbiamo avuto come ospiti Pasquale Rodomondi, Abisso. Il prossimo anno quando ricominceremo vogliamo sicuramente, voglio io insieme al mio consiglio direttivo, tenere questo livello così alto, perché facendo un grande maestro dell'arbitraggio internazionale che è Alfredo Trentalange, dice, si cresce sicuramente per didattica ma soprattutto per confronto. Ecco, io voglio che i miei arbitri si confrontano con questi arbitri di questo spessore.